Stavo facendo il bagno, no proprio il bagno perché ero là sulla spiaggetta e a un certo punto vedo una bambina che comincia ad andare sotto, giù sotto e dopo sono andato là, l'ho tirata fin dove toccava e quando ho cominciato a toccare è entrato un altro signore e allora io sono andato fuori. E tu sei andato lì e hai cercato di tenerla su? No, io ho cercato di portarla fuori e sono riuscito fin dove toccava però dopo ha cominciato a farmi male e allora sono uscito. Ho capito, e poi è arrivato un altro signore? Sì, dopo è arrivato un altro signore che ha salvato l'altro bambino. Quindi c'erano due bambine e poi c'era anche un altro adulto? No, eravamo solo io e queste due bambine e dopo è arrivato un altro signore che ha salvato l'altro bambino. E la persona invece che è rimasta nell'arco? Io ero uscito, lui era entrato per salvare qualcuno che forse non si era accorto che l'avevamo già salvato e lui si è buttato dentro, non sapeva nuotare e allora niente, io l'ho visto andare sotto e basta. Grazie a tutti.